Grazie. 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 Grazie Come Two. e adesso sono curiosa e ho detto che l'incontro con sto marito è stato un'altra parte, ma anche magari non è un'altra parte. No, adesso ho scritto che ero in 30% all'epth, che era di 2009, quindi c'era ancora... e io ero volontaria, per cui siamo conosciuti proprio in ambulanza, su un po' ce lo so veramente di abbastanza, c'è abbastanza impatto, ecco, l'incontro. Ma non era nessuno dei due? No, adesso non è proprio... La cosa particolare è che io odio il sangue, cioè la storia di una protesta di volontaria è stata abbastanza particolare, e c'ho tutta l'ambulanza al primo giorno su questo codice rosso, l'umano ce l'ha ovviamente comunque, e in realtà non volevo nemmeno farlo da volontaria, ero andata anche sull'associazione volontaria, per accompagnare, diciamo, mio padre, che in quel momento mi ha bisogno di dedicarsi agli altri, insomma, di fare qualcosa perché mi ha perso il lavoro. e mi disse a me, vabbè, lo accompagno, poi la ballo io, niente, questo è mancato, perché c'è un po' proprio per me, ma con la dottoressa, poi abbiamo studiato, e c'è quello che poi ha detto, no, però era stato volontariato, era una cosa che... ... 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 Bisogna sempre fidarsi del cuore tesoro, lui non sbaglia mai. E che succede quando hai provato la tua pietra gemella? Chiesi in grina a me. Dal momento in cui la tosserà, la pietra scatenerà il suo potere straordinario, legandosi a te in maniera di suo rumore. E allora sarebbe inseparabile. E questo è un po' l'inizio della sudoria di Luna, che viene proprio educata sin da piccola, dal nonno. Ma poi in cui si scatenerà una serie di piccoli stori e progetti che alcuni si esattiscono, altri rimangono in sosteso. E tra i vari progetti c'è quello di viaggiare. E qui, in questo libro, che senso ha il viaggiare? Insomma, è una parte fondamentale. È il sogno più grande di una bambina, perché appunto l'ha visto fare al suo nome per tutta la vita. C'è questo miraggio, praticamente, la Thailandia. Il suo sogno è un giorno di poterci andare. Sono una foto per tutti i miraggi in Thailand, perché lì c'è il mercato, c'è un tabù il mercato più grande al mondo di giardini preziosi. È veramente una procedura di mercanti, di caccia precisa, perché tutti passano da lì per commerciare, vendere, rientri. E quindi il sogno di una bambina è proprio quello di un giorno vedere questo mercato e è molto libero da cacciatrice. Poi lei, anche lei, come il suo nonno. La Thailandia poi diventerà un sogno che si sfuma quando succede l'emvisorio nella adolescenza di luna, che ne segnerà veramente profondo e per un molto tempo. E, diciamo, sembra un progetto accantonato definitivamente perché lei non ne vuole rispettare più a dare. Adesso lavora, lavora nel negozio di famiglia, diciamo, tranquilla, fidanzato, ha avuto questa attività e va bene così. Quindi i soldi di bambina, di viaggiare per il mondo, e ha, diciamo, accantonato per sette. Il nonno no. E quindi, diciamo, sa su questo che lui punterà, insomma, che si fa bene, ha benvenuti per tutta la vita, come da un viaggio non si torna mai, come quando si è in barbina, cambia profondamente. Sa anche che l'una, che si è coinvolgata con un diamante, sia lei che lei o un'altra, più da bambini, e il diamante cresce dentro la roccia, che si chiama Luneonite. Però il diamante, forse allo stato grezzo, ma non può mai brillare perché resta accantonato nella roccia, che ha bisogno di uscire, di crescere e di apprezzare di spazio. E proprio anche fisicamente, il consiglio che lui ha sempre dato ai ragazzi è quello di piantare via, insomma, di viaggiare poi, per crescere e soccarsi finalmente dalla roccia male, anche se crescere poi è difficile, quindi ci sarà da fare conti, con le patrici paure, i propri limiti, però la parte della vita, che non lo viene, è che solo dal fuoco, nascono gli amanti, quindi, evidentemente, per lui in live, bisogna un po', insomma, vincere i propri limiti, e tirare fuori quello che si ha, fuori a mente, la forza che magari spesso, non crediamo nemmeno di avere. Quindi, anche una vera, si rifronterà questa prova, e dovrà veramente, guardarsi dentro, e tirare fuori questa forza, per dimostrare, che è più chiaramente, un diamante, anche lei. a volte, mi chiamo una persona, cioè, mi chiamo, con più fortezza, sono una persona, nella tua vita, c'è un pietà, per esempio, in particolare? E, ovviamente, c'è, è proprio, il diamante, per eccellenza, vabbè, anche perché, ho mai visto, dicono, ma però, il primo è, effettivamente, la cosa, il primo è molto, il bello, insomma, che, insomma, per vedere. Lui e lei, o si conoscono, che hanno sempre, hanno sempre, i piccoli, e contivano, questa amicizia, che è libera e crescere, nel tempo, e, da questa amicizia, però, si arriva anche, a un sentimento, la domanda è, secondo te, tra un uomo e una donna, ci può essere amicizia, oppure, come hai descritto tu, a un certo punto, la complicità, talmente forte, del mitinità, che si sta, tra due. è di capo, la scelta, ma cosa mi chiedo, che vuoi? Eh sì, perché, c'è una domanda, come, ti lascio, bene, mi presento, semmi, poi, mi lascio la risposta, che da voi. Ma, diciamo, secondo me, cioè, intanto, quello che poi capita, a Lui e Leonardo, è quello che capita spesso, secondo me, tra un uomo e una donna, poi, all'opine, se c'è effettivamente, tanta complicità, tanta intimità, si trasforma, inevitabilmente, in qualcosa di più, diciamo, non sono una piuttura, proprio, dell'amicizia, diciamo, come donna, forse, perché, cioè, non l'ho mai, risulta, insomma, c'è, però, non l'ho mai, proprio, cioè, che mi amico, insomma, quindi, direi che poi, è probabile, che risposi in qualun'altro, non so se... Poi, siete d'accordo o no? Assolutamente sì. C'è un po', è facile poi, questi eventi, pensare, amicizia, promodano un po' di pregiudizio verso l'uomo, con molto pregiudizio verso l'uomo. Personalmente, ho avuto amici maschi, non c'era implicita nessuna, nessuna donna, sentimentale, ci credo, però, è una cosa veramente rara, perché spesso, lo stesso uomo, si pone qualche pregiudizio, e spesso lo stesso uomo, non che sia una donna, non è scontato, è troppo facile. Io faccio un ragionamento matematico, molto semplice, quando un uomo sceglie un amico uomo, quando una donna sceglie una donna amica, la sceglie perché gli piace, punto, il discorso è finito. Se già ti piace, un uomo perché lo scegli, punto. Se già scegli una donna per gli che piace, il discorso è voluto. Poi questo piacere, c'ha la ridipendita, la matematica, punto, più o più, la matematica, semplice. C'è un avviso in matematica. E lo so, non lo pentite, non lo pentite, però non è scontato. Non è scontato se uno finge o se uno fa finta. Però l'amicizia vera non è scontato perché nell'amicizia è contosso. E' arrivata. La domanda la pensiamo a lei che non la sentite con la domanda. Poi esiste l'amicizia tra un uomo e una donna? Assolutamente sì. Perché? Perché nell'amicizia se è vera amicizia non ci sono se non il sentimento dell'affetto e della gratuità. Quindi essere sulla stessa lunghezza donna senza altri interessi. Se subentra e può succedere l'attrazione, quindi guardare gli altri con occhi diversi, allora l'amicizia finisce e diventa qualcosa. Siamo un certo come nasce. Però l'amicizia è posta per dire qualcosa in caso di vera. Perché c'era una grande astromettà e l'intervista che scuola che scuola che scuola e poi sono su di i tuoi si sono i tuoi si piccoli c'era un'estra dell'arri di incontro a parte è subito si vuole anche per gli uomini se non per i doni no che a me è mostrata la cosa un po' soltanto c'è un po' sentito vieni davanti vieni 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 la domanda è avete queste sebbastiano allora possiedete qualcuno di voi ha regalato o comunque possiede delle pietre preziosi se sì quali e in che situazione sono state regalate sono state donate eccetera l'onice per gli indiani è più prezioso del diamante dell'oro come l'hai trovata l'ho trovata in strada ma qui mi lascio sì lo penso io è un pententino io non uso due però ci sento tanto mi piace da lui sì qualche volta all'audio io io so hoato ragazzi ho visto mappietta ho fatto un'ambiente da una città di bani E quindi ti ha fatto un colore o ti ha suggerito il... Ha suggerito? No, mi piace con il colore, mi piace con il colore, quindi ti ha suggerito. No, assolutamente no, non c'è. Mi ha fatto con la rete di pietra, io ho scelto la tetta in cuncio. Mi ha detto questa è l'altra cuncio, la schede, la costruite. No, io ho ricevuto da mia nonna un lupino rosso e mi ha detto di regalarlo, poi la donna che ha tolto. Ma è perché sia l'edita? No, è così, io ho arrivato due ore e quinto, di tolto con gli lupini, ha fatto smontare i tolto e gli lupini erano da me e non le so. E poi sì, ma è il colore. E' scaduto. C'era la nata, è scaduto. Sì, io ho ricevuto quando mi sono fidanzata, ormai ne ho saputo tutti, ma lavoro orecchini, anello, colier, di brillanti. Conservo, è un po' come, questo ragionamento, direttamente a chi ci appartiene, perché già sto pensando che dividere con i figli e lasciare le levità, fa un po' di niente. e devo dire che non ho niente, se no, alla morte di mia madre, quando ci siamo riunite, tutte insieme, abbiamo condiviso le sue cose, ho ereditato un anello con una dieta verde. Non so che cosa sia, però... Non so che cosa sia, però... Allora, aspetta... Non so, aspetta, se vi è una persona, è un po' di niente, è un po' di niente, è un po' di niente. Fermo lì, fermo lì. Allora, non so se è una cosa presente, sicuramente è... Allora Fabio ci teneva sempre tantissimo a fare le donne a tutti. Buongiorno, adesso mi ricordo che stavo tornando da un diazio lungo e mia mamma che era più forte a ricevere materialista. Allora, abituata a ricevere le regali, era lì pronta tutta tutta avvolta. E arriva, il vaso andava portato, arriva con questo involto, tutta avvolta, che era qualcosa di molto prezioso. Gabi con la sua grazia ha fatto il pacco e sverò un bellissimo, 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 che è più ovvio. No, 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 no. E lì c'è pure che esiste. Guardate, guardate, lo finisle, a parte di questo schimpato. Non mi piace! Se mi hai fatto! Guardate, mi piace, guardate, guardate... Bato, dì la verità, quanto la verità c'è per voi? se lo ricorda dai che sono come atto la cera del lettorio dal giorno dai che finito dai nonostante tutto dai non è di un po' meno l'amore è mio un altro a testa che non ho preso il vino e scusate mi interviene sono stati non è bruttamente cristalli c'è un favorito con una serie di fai uscire adesso facciamo le cose simpatiche la tua ilatria per cui è acconciato bene che la mia latina l'hai mai visitata? sì però prima di scrivere il libro quindi diciamo non sono stata al mercato puoi raccontarsi però al mercato non ci sono stata no si fa la barcoca quindi il fatto che la luna quando l'hanno ha mandato è il mio perché sono firmata un po' più perché è un po' diversa è un po' di inquinamento molto caos un'unità pazzesca quindi è stato veramente molto affascinabile però poi mi è piaciuto anche prima e insomma è anche scorso in Italia però non sono stata nel caso che c'è stato molti anni prima diciamo di scrivere il postale ma non lo so nemmeno diciamo di scrivere il postale ma sta presto in anche il gioco a voi avete una domanda più chiara Grazie. Mi pare di aver capito da questa conversazione che la pietra preziosa indica una sorta di rinascita, di catarsi del personaggio, una crescita, quindi una sorta anche di formazione del personaggio. Sarei curiosa di sapere come il significato delle diverse pietre preziose ha contribuito a questa crescita rinascita del personaggio. Sì, quando l'ho letto, però è stato proprio quello che ho fatto, cercato di fare almeno, nel senso che nella crescita di una, diciamo che la sua storia si ripana, il nonno, che poi è la pizza, la figura che è sempre stata vicina, le propone una pietra. C'è nel momento in cui lei deve affrontare una nuova sfida, questo lo posso dire perché non si vuole o niente, perché nel primo capitolo lei ricontra subito da un altro gruppo anni che non lo vedeva più questo amico, che poi è stato il suo primo amore dell'adolescenza, che era scomparso all'improvviso senza dare alcun tipo di spiegazione, l'aveva lasciata sola. E quindi insomma la caratteristica è quasi un trauma, insomma, che non ha mai superato definitivamente, il primo capitolo è che ritorna, cosa è l'improvviso, lei è esso subito scioccata. E diciamo il nonno, che è un po' il Leo, il Leo Sainz, maggiore della faccena, quindi un po' dietro le quinte muove le sue pedine, sa che la sua niposa ha bisogno dell'aiuto nelle sue pietre, sebbene adesso le rimedi al presente, che considerano solo dei sassi colorati, senza dare alcun tipo di proprietà, di effetti su di noi. Lui sa che non è così, lui ci crede, tutta la vita che considerano i suoi amici, perché sono proprio vive e appunto sintonizzandosi con noi, ci aiutano nei momenti più difficili. Quindi, più tanto aiutandosi a tirare fuori, o proteggendoci o in certi casi a tirare fuori quello che abbiamo dentro, il coraggio, l'apporto, quello che ci serve per sovrare le difficoltà. Quindi, diciamo che strategicamente, dà le raccolte delle pietre per essere tirando, per crescere, per andare avanti, perché la sua storia si compie poi alla fine. Lei all'inizio non ci crede, assolutamente non è molto più spettato di parlare di queste pietre, che comunque sono stati complici di questo amore, come un adolescenziale, della, insomma, della vota che si è creata con questo Leonardo, qui dall'infanzia, e quindi ha rinnegato le pietre insieme a lui. E, diciamo, la storia è presente, è nelle mani di Luna, ma anche di suo nonno, che da dietro le pinte cerca di far riconciliare i saluti vuoti con quello, con il suo passato, che lei aveva appunto rinnegato. Quindi le pietre servono proprio a lui. Sì, è la decisione della posta di Leonardo, che l'ha portata a me, a tutti. Sì, è venuto, sì, anche le pietre che ha una cosa, sì. Ah, sì, è venuto, non sono la scuola. Sì, sì, quindi, diciamo, lei è il sosa di pietre Leonardo, perché poi hanno passato l'infanzia e anche l'adolescenza a cercare le pietre, a studiarle, quindi a cacciarle, erano piccoli, non so, perché ancora non c'erano mai stati fuori, insomma, la loro città, perché erano piccoli, però il sogno che avevano in comune era quello di viaggiare, quindi le pietre, Leonardo e il nonno era questo trio che nel cuore di Luna era ben prendente. Andandosi da Leonardo ha portato via con sé anche la vasia del pietre. È un viaggio in Tailandia sfuma perché il nonno si era volato, perché? E se non c'è, 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 non c'è. Sì, posso leggere una cosa, poi mi faccio un altro. Il cuore di Giana mi sembra diverso stamattina, più grande, più ordinato, più, in mano era più. So che starò via solo una settimana con le sedute, se stessi per migliorare tutta la mia vita, come la conosco. Non saprei come definirla. È una sensazione strana, come quando sei nel punto più alto delle montagne rosse e stai per affrontare la discesa non capiato. Ecco, mi sembra di vivere quel pochi secondi prima di precipitare il mio uomo. Ho paura, ma anche un po' stessa non vedo l'ora che usciti la discesa, perché l'attesa mi uccide. Sono in laboratorio. Ci sono anche da posto le ultime cose per poter arrivare il mio anno. Delle spalle e caprello calato sulla testa mi chiedono come un sorriso soddisfatto. Allora, sei pronto, tesoro? Sì, ho controllato tutto due volte. Ho preso tutti i numeri dei medici. Ho fatto. Mi interrompo. Non intendo questo, Luna. Non mi interessa di badare. Sei pronto per questo viaggio? L'occhiata indagatrice, con cui accompagna le sue parole per un momento, mi esitisce. Così è di nuovo lui a parlare. Noi non siamo questi, Luna. Noi siamo viaggiatori. Noi non apparteniamo ad alcun luogo. E' la nostra meta per il viaggio stesso. Ma spiega, nello stesso momento, di quando ero piccola. Il vero tesoro è quello che si accumula per la via, non la ricchezza che si trova la meta. Le pietre ti mettono sulla strada. Senza di loro non intraprenderesti nessun viaggio. E' davvero Luna, non potrebbe portarti niente di più prezioso. Come sempre, quando vieno a parlare, il possibile non stava da ascoltare. Per quanto confonda resistenza, nelle sue parole senti il vento che lo ha spinto da un capo all'alto dell'alberga e la sua voce si conduce verso orizzonti lontani, gli stessi che ha superato lui andando incontro ai suoi sogni. Accena un sorriso complice con Babila e negozi. Un minuto dopo l'intorno, spegne la luce nella stanza e mi facendo di alzarmi e seguirlo di fronte alla finestra. Stupita e incredula lo faccio. Vicino al vetro, rispido il palmo, lasciando che un raggio di sole illumine la pietra che tiene in mano. E' un'alessandrite, una rarissima varietà di chiuso di villo, che cade in colore quando sposta differenti fonti di luce. Qualcuno dice che è uno smerato di giorno e un rubino di notte. Per dimostrarlo, il nonno gli accende la luce e sposta la pietra perché ne si è colpita. Ecco luna, questa è una vera varietà, una pietra da intenditori in chiuso. La caratteristica più favolosa è la sua sorprendente capacità di cambiare colore. Verde alla luce naturale, di venta rossa a quella artificiale. Ti ricordi la sua storia tesoro? Sì. No. Con un piccolo sorriso complessivo rinzi a raccontare. La leggenda dice che la scoperta della pietra avvenne proprio il giorno in cui il futuro, Zara e Alessandro II dei russi, diventò maggiorenne. Inevitabilmente questa gemma che cambiava colore del verde e rosso e che segnava il passaggio dalla giovinezza alle camature fu dichiarata la firma ufficiale dell'impero russo. Vorremmo dire che si metteva con queste sue storie legate alle pietre, sapere come lo soccorre. Però non sono abbastanza veloce e non continuo a parlare. Una bella alessanderite è considerata più preziosa dello taffilo blu, dello smerano del vino, proprio perché sa cambiare. Se non c'è cambiamento, si tratta sempre sovegliere di riso per il vino. Al contrario, più marcato e più attivo il cambiamento, maggiore sarà il valore della pietra. E poi si scoppa con un'occhietta profonda che cattura la mia presizione di conoscere il vitamino e l'addomino di un cuore. E come anche le persone, è l'autobare qualcuno che sa che lasciarsi andare il cambiamento senza averne paura. Ma il cambiamento è vita. Mi sorride, mi mette le mani sulle spalle, lasciandovi protisare delle dappini sui due. Resistere, sarebbe più possibile. Viaggiare e cambiare i sogni. Significa lontanarsi da se stessi per ritornare a se stessi, ma diversi. Non sarei più la stessa dopo aver sentito lo scicchio mio degli scartoli nella polvere e dopo aver visto la brillantezza della luma dall'altra parte del mondo. La successione di queste immagini diare sta connessa dentro. E per un istante la paura che provavo fino a un'altra volta, si trasforma in pure, potente e sentire di un'unità. Grazie. 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 Un universo è energia, come diceva Pierre. Infatti attorno al mondo si estende un corpo sottile di energia ed è ormai risappunto che ogni disturbo che perdiamo, prima di manifestarsi in quello fisico, esiste sulla nostra cultura. Allora, io ho chiesto di scegliere una pietra, perché è una cosa che ho trovato sul tavolo. In quel caso, ve l'ho fatta scegliere, vi siete trovati, allora in maniera simpatica ho messo la pietra e se ne avete significato, non so se qualcuno di voi ha scelto l'acqua marina. No, 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 no. No, 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 no lo smeraldo però io sbagliato pensavo fosse una tetra di giallo il nome del ribade greco che significa pietra verde ma il suo colore può venire a seconda della quantità di cromo presente in attività la pietra veniva regalata alla sposa anche nel caso in cui ella avesse tradito in consorte la pietra si sarebbe franfumata in 1.200 cm ripenendo così la verità è consigliato a chi ha difficoltà per emergere la propria personalità e che vorrebbe essere meno timido diamante il suo colore suscitò due diverse interpretazioni gli antichi greci ritenevano forse la pietra del Dio Apollo la pietra del sole mentre gli antichi romani che devono potesse guarire tutte le malattie della pelle la pietra favorisce la mobilità d'animo le amicizie sincere e donna fragilità dietro di luna rilasciata la pietra compare sulle rive del mare solo 5 volte l'anno e solo nelle notti di luna nuova l'affortunata panciulla che nella pelle riuscirà a sposare un tre la pietra è estremamente legata all'universo femminile alla crescita e all'evoluzione è la personificazione della luce che dà vita ma se siete curiosi c'è un test la vogliono fare? Sì 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 Domanda Nella vita cosa non può mancare? A saggezza B passione C equilibrio B coraggio B B Sì B B B B B B B B B No, non guardate i risultati, però, perché... Di fronte a un problema, a cerco la soluzione più veloce, b ascolto quello che suggerisce il cuore, si con calma valuta la situazione prima di agire, b lo affronto con terrorista. Io so cos'è la situazione. Dopo i secondi... Io so per fare la prima, eh. La prima, cioè, è facilissimo. Andiamo alla terza domanda di pancia. Qual è il look che è meglio di caratterizzare? A. Sobrio e vestito. B. Sperzi. C. Elegante. Per fare la posizione, perché la possibilità o massimo... di ridurzo e sportivo. Ma, ma tu è difficile, e ridurzo e sportivo. che musica preferisci a musica classica b ascolto un po' di tutto dal pop a la rubina si, dall'altro nome di Dennis che mi dà la carica la tua vacanza ideale è a a New York, la città che non dorme mai b una vacanza on the road negli Stati Uniti c in un certo benessere in cui rigenerati e ritrovare il mio amico d una vacanza in Bartadena per avere un orizzonte sconfino questa è la mia cambezza tutta la mia non c'è quella è più bella quella è più bella quella è più bella allora, se no, qual è il pregio? io, allora, chi ha il profilo? chi ha male? Ma nelle prime... Nella prima. Antonella, la tua missione nella vita è di portare l'ordine laddove il tutto è poi. Sei precisa, razionale e realista, infatti un ostacolo riesci a mantenere la lucidità necessaria per mettere a fuoco la situazione e elaborare soluzioni adeguate. Per questo tuoi in alto senso pratico non ti lascia valere dalle difficoltà e le affronti con coraggio. Sono medambra, la mano della protagonista della voce e la risposta dell'ordine. Tra romantica e asciutta non ti lascia vingolare facilmente, preferisci fatti alle parole. Dici che sono romantica, l'impaura. Chi ha fallegato le maggiori risposte B? Io ho male per amare, anche io trovi. Sì, forse sì. Labradorite, per sfficacia intuitiva il tuo stesso senso ti indica sempre la via da intraprendere il più giusto per te. Come cosa pietra dalla superficie carigliante di bel colore, il cambiamento non ti spaventa ma anzi ti sproma a tirare fuori la tua creatività. Riesci a guardarti dentro e a riconoscere le tue belle intenzioni e obiettivi e per raggiungerle non hai paura di metterti in gioco. Se come pietra, l'amica della fronte è vista dalla mozione sposta nelle pietre, che nonostante quello che le dicono le pietre, quella pietra è stata passata anche più che fuori. Chi ha fatto maggiori risposte C? Io. Ok? Pietra di luna, equilibrata, dolce e compressiva, si è ritratto della femminilità. No, 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 no. Ma no, 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 no. Chi ha accumulato maggiori risposte di? Io. Io. Sei sensibile, ma allo stesso tempo molto forte, proprio come questa pietra. Assomiglia l'una, la probabilità della pagina scosta delle pietre. Venaccia è determinata. Non ti lasci abbattere dal primo problema che trovi sul tuo cammino, ma anzi, con coraggio fronteggi le difficoltà senza tirare il pietro. Come l'acqua del mare che si entrano sugli scolli, ti batti e per sederli, fino a che non lo riesco anche voi. E' un po'. 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 Grazie. 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 Sardegna. Grazie. 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 Grazie a tutti.